Premio Cipollini Mario, seconda del convegno, tre anni a confronto sul miglio, sei al via, dallo steccato uno Viola del Circea, Roberto Muscolini, due Vittoriano Anzi, Roberto Vecchione, tre Vigone Riff, Gianpaolo Minucci, quattro Vashtop, Pietro Gubellini, cinque Vanessa Thor, Enrico Bellei, sei Volton Jet, Antonio Di Nardo. Questo è il campo partenti, macchina entro nella retta opposta alle tribune, rinuncia Volton e fa partenza Vanessa. Vanessa si avvantaggia, la contiene però Vittoriano Anzi, ma lo fa solo per saltare Viola del Circea, poi lascia sfilare Vanessa Thor, allargo avanza Vashtop. Vashtop risale, 200 iniziali in 3,17 per Vanessa, raggiunta da Vashtop, che la appariglia a metà della piegata e sul finire della stessa la sopravanza, dopo 400 metri Vashtop si profila in vantaggio davanti a Vanessa, poi Vittoriano Anzi, Viola del Circeo, ancora Vigone, Griff e Volton Jet. Valli che completano ora i primi 600 metri, 600 iniziali che Vashtop passa in 44,1. Vashtop al comando Vanessa di Rincalzo, poi Vittoriano Anzi, Volton Jet a questo punto deve per forza far qualcosa e allora risale all'esterno dopo aver rinunciato al Via. Si va verso metà della retta opposta alle tribune con Vashtop in vantaggio, Vanessa di Rincalzo, Volton che si avvicina a largo, il primo chilometro di Washtop in 1,14,7, ora aumenta la cadenza Washtop, Vanessa Thor avvicinata da Volton, in corda c'è sempre Vittoriano, poi gli altri, cioè Vasari e Vigone, scusate, e Viola del Circeo. Siamo a 300 dal palo, 1,28 e 4, i tre quarti di miglio con Washtop al comando, poi Vanessa Volton si mette in moto anche Vigone, intanto Washtop ha scavato un bel margine di vantaggio sugli inseguitori. Washtop che prosegue facile fino alla meta, Washtop come doveva essere, vince facile il secondo per Viola del Circeo davanti a Vigone Griff di dentro Vittoriano. Allora, il totale 1,56,7, la media intorno all'1,12,6, considerando il parzialino, il successo per Washtop e Pietro Gubellini, Eric Bondo, i colori della Mary Forever, eccola qua, la bellissima erede di Ridikesh e Melody del Rio, che va a isolarsi, facile alla meta. Vediamo i distacchi per i piazzamenti. Allora, il secondo per Viola del Circeo, il terzo per Vigone Griff, il quarto per Vittoriano Hans, il terzo per Vittoriano Hans,